Salve a tutti, sono Raffaele Colaizzo, siamo al terzo incontro del nostro modulo sul monitoraggio di programmi e progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e in questo incontro in particolare parliamo di quando servono i dati del monitoraggio, in particolare ci facciamo questa domanda considerando il ciclo di vita dei programmi 2021-2027 e l'attività di sorveglianza. Ricordate come negli incontri precedenti abbiamo dato definizioni e regole essenziali sul monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di programmi e progetti, nel secondo incontro abbiamo parlato di dati, indicatori e target specificamente riferiti al monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'FSI Plus e adesso chiediamoci appunto quando servono i dati del monitoraggio e chiediamoci anche, insomma l'abbiamo accennato già a questo negli incontri precedenti, ma chiediamocelo in maniera un po' più strutturata a chi servono i dati del monitoraggio. Allora, innanzitutto vediamo un pochino chi sorveglia e come sorveglia. Ricordate nel primo incontro abbiamo detto che l'attività di sorveglianza è un'attività più generale rispetto al monitoraggio degli interventi, che è basata sul monitoraggio, ma che riguarda in particolare l'accertamento della qualità dell'attuazione, accertamento nel cui ambito ricavi anche l'attività di valutazione. Ecco, questi passaggi che adesso commentiamo sono tutti stabiliti dai regolamenti dei fondi, quindi sono disposizioni importanti che necessariamente devono essere compiute per attuare i programmi e per rispettare, ecco nel caso specifico, il regolamento comune, il regolamento 1060 del 2021. Allora, primo punto, l'autorità di gestione istituisce il sistema di registrazione e conservazione elettronica dei dati anche a fini di sorveglianza e valutazione. È importante, questo lo dicono i regolamenti, che questo sistema debba essere un sistema elettronico, sistema di registrazione e conservazione elettronica dei dati, quindi non sono più ammessi, ma sono già da tanto tempo, diciamo, delle schede di monitoraggio manuali sostanzialmente, però già da tempo insomma questo passaggio è stato compiuto. L'autorità di gestione trasmette i dati alla Commissione europea, articolo 42 del regolamento, e fornisce al comitato di sorveglianza le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, dati, dando inoltre seguito alle sue decisioni e raccomandazioni. Il comitato di sorveglianza utilizza questi dati che sono forniti dall'autorità di gestione, dati di monitoraggio. Esamina i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e finali. da disposizione su tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e ottengono le misure per farli fronte. Anche questo naturalmente è stabilito dai regolamenti. I dati di monitoraggio quindi servono al comitato di sorveglianza e sono condivisi tra gli stati membri e la Commissione europea. Una volta all'anno, questo ce lo dice l'articolo 41, sono organizzate delle riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. La riunione di riesame può riguardare più di un programma. Vi è poi un'attività che vedremo attuata nei prossimi anni. L'articolo 43 ci dice che ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del 15 febbraio del 2031. La relazione valuta il conseguimento degli obiettivi del programma. Il monitoraggio anche in questo è fondamentale. Ricordate come le tabelle dei programmi operativi danno dei target agli indicatori di output e di risultato. E alla fine del programma, ecco io dovrò vedere se quegli obiettivi quantificati, quei target, sono stati effettivamente raggiunti. Gli stati membri promuovono valutazioni indipendenti dei programmi relativamente efficaci, efficienza, rilevanza e coerenza per il raggiunto dell'Unione. Entro il 30 giugno del 2029 viene effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto. Ricordate che ne abbiamo parlato, insomma, in precedenza, l'impatto è valutato nell'ambito delle attività di valutazione. L'attività di monitoraggio dal punto di vista dell'esecuzione fisica e degli effetti è concentrata su output, realizzazioni e su risultati, ovvero effetti presso i destinatari diretti. Naturalmente anche nell'ambito della valutazione i dati di monitoraggio sono, come potete ben immaginare, fondamentali. L'osservazione permessa al monitoraggio viene interpretata e analizzata nell'ambito delle attività di valutazione, insieme ovviamente ad altri elementi anche di natura più qualitativa. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza e la coerenza per il raggiunto dell'Unione ciascun fondo intorno a fine del 2024. Questa è un'attività di valutazione di natura generale della Commissione ed inoltre effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia e l'efficienza di ciascun fondo entro il 2021. Ripeto, questo punto finale non riguarda i singoli programmi ma riguarda aggregati di programma e fondi. Ecco però comunque il tema del monitoraggio a livello di singoli progetti di programma rimane fondamentale perché su che cosa la Commissione basa questa valutazione generale? La base sui dati che provengono dal basso, cioè che provengono dai singoli programmi e addirittura dei singoli progetti. In sostanza tutte le derivazioni, anche minute, anche relative ai singoli progetti poi per aggregazione arrivano a formare il quadro generale che viene analizzato e valutato dalla Commissione europea. Quindi anche in questo caso una funzione fondamentale dei dati di monitoraggio. E questa è un po' la conclusione insomma di questa breve discussione. I dati di monitoraggio sono fondamentali per l'attività di sorveglianza a tutti i livelli. Ecco, proprio per fare in modo che questo quadro che parte dalle piccole unità di attuazione dei programmi e che arrivi al quadro complessivo delle politiche dell'Unione europea, per fare in modo che questa composizione del quadro informativo avvenga in maniera ordinata, ecco, il regolamento dà delle disposizioni che riguardano in particolare le tempistiche delle trasmissioni dei dati. In particolare l'articolo 42 e poi l'allegato 7 del regolamento comune, innanzitutto ci dicono l'autorità di gestione deve trasmettere i dati di avanzamento finanziario del programma alla Commissione europea attraverso una piattaforma dedicata di cui poi parleremo, insomma, nel prossimo incontro. Ecco, deve farlo cinque volte all'anno. 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre. Qui parliamo di dati finanziari. I dati fisici vanno trasmessi due volte all'anno, il 31 gennaio e il 31 luglio. Quali sono i dati da trasmettere? Qui parliamo prima di dati finanziari e poi di dati fisici. Il costo totale ammissibile delle operazioni selezionate, il contributo dei fondi alle operazioni selezionate, cioè la quota dell'Unione europea, la quota della dotazione finanziaria totale coperta dalle operazioni selezionate, che in un certo momento le operazioni che sono state selezionate, quanto rappresentano nella quota totale, in termini di quota, sulla dotazione totale del programma? Qual è l'importo totale delle spese ammissibili dichiarate da beneficiari? Qual è la quota della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate da beneficiari? Il numero delle operazioni selezionate. Ci sono poi le informazioni che riguardano gli indicatori fisici in senso stretto, il valore degli indicatori di output quantificati alla data di riferimento, il valore degli indicatori di risultato quantificati alla data di riferimento. e quindi questi sono obblighi precisi che ci dicono in particolare quando servono i dati di monitoraggio ai fini della trasmissione alla Commissione europea. I dati di monitoraggio sono fondamentali anche da un punto di vista più funzionale, potremmo dire. noi abbiamo anche nel 2021-2027 la regola del disimpegno automatico. Che cosa ci dice la regola del disimpegno automatico? Ecco che le somme non spese entro tre anni dall'anno in cui sono state messe a bilancio, ovvero compaiono nel piano finanziario del programma, ecco queste spese, queste somme non spese vengono disimpegnate, vengono cancellate. Ad esempio al 31 dicembre 2025 dovranno essere spese e certificate, ricordate quando noi parliamo di spesa certificata facciamo riferimento a quell'attività della cosiddetta funzione contabile che riceve i dati sui pagamenti dall'autorità di gestione e che li certifica, cioè dice effettivamente si tratta di pagamenti regolarmente effettuati. Quindi al 31 dicembre 2025 dovranno essere spese e certificate tutte le risorse impegnate nel 2022, al 31 dicembre 2026 quelle impegnate nel 2023, poi c'è la regola finale, sono disimpegnate le somme non spese al 31 dicembre del 2029. Ecco chiaramente il dato del monitoraggio finanziario è fondamentale rispetto all'applicazione della regola del disimpegno automatico. Qui vedete quindi, a puro titolo di esempio, il piano finanziario, in particolare il programma regionale FS Plus della provincia autonoma di Bolzano. Io ho le dotazioni finanziarie per anno. Il monitoraggio mi dice, il monitoraggio delle variabili finanziarie e in particolare il monitoraggio delle spese, che abbiamo detto insomma le spese sono la variabile chiave insomma nella determinazione dell'avanzamento dei programmi, ecco il monitoraggio mi permetterà di dire che effettivamente il target dell'avanzamento finanziario sia raggiunto, come abbiamo detto ad esempio che alla fine del 31 dicembre, alla fine del 2025, al 31 dicembre 2025, le risorse programmate per il 2022 sono state effettivamente spese. Ecco, approfitto anche di questa slide per commentare la rappresentazione del piano finanziario del 2026-2027. in questi due anni noi abbiamo che l'importo finanziario è suddiviso in una dotazione finanziaria senza importo di flessibilità e una dotazione finanziaria con importo di flessibilità. In particolare, su questo anticipo una discussione che faremo meglio fra breve, l'importo di flessibilità viene attribuito dalla Commissione europea se sono stati raggiunti determinati parametri anch'essi rilevati dal monitoraggio, in particolare dei parametri di natura fisica. Su questo però torneremo fra breve. I dati di monitoraggio quindi servono per, in particolare il monitoraggio finanziario servono per applicare la regola sul disimpegno automatico, i dati di monitoraggio servono anche nell'ambito del riesame annuale della performance che è introdotto dall'articolo 41 del regolamento comune. Dice l'articolo 41, una volta all'anno sono organizzate delle riunioni di riesame per esaminare la performance di ciascun programma. Participano naturalmente le autorità di gestione pertinenti. Lo Stato membro deve fornire alla Commissione delle informazioni concise. Su una serie di elementi queste informazioni si basano sui dati più recenti di cui dispone lo Stato membro. Ecco, naturalmente poi lo Stato membro, questo è tipico dell'attività di sorveglianza, da seguito alle problematiche rilevate durante la riunione di riesame. Tra questi dati più recenti naturalmente compaiono dati fondamentali del monitoraggio e in particolare vedete il punto A, i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali. E poi anche una serie abbastanza numerosa di informazioni qualitative, però vedete insomma il primo punto è basato sui dati di monitoraggio, i progressi compiuti nell'attuazione del programma. Tra l'altro sottolineo in quest'ambito insomma un aspetto interessante il regolamento comune dice le relazioni di attuazioni annuali dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. Quindi ecco con questo regolamento cerca un po' di superare insomma il meccanismo delle relazioni di attuazione per dire è necessario che ogni anno ci sia una riunione, un riesame annuale appunto basato su un dialogo strategico strutturato. Dialogo strategico insomma che ovviamente viene alimentato dai dati di monitoraggio sia finanziario sia fisico sia procedurale. Un altro momento fondamentale, ricordiamo che qui stiamo parlando di quando servono i dati di monitoraggio, ecco un altro momento fondamentale è quello del quadro per l'efficacia dell'attuazione. Ricordate come sia per gli indicatori di output sia per gli indicatori di risultato io ho dei target, un target intermedio, un target finale per gli indicatori di output, un target finale per gli indicatori di risultato. Dice il regolamento articolo 16 ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la reindicazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione. Su cosa è basato il quadro per l'efficacia dell'attuazione è basato su indicatori di output e di risultato collegati agli obiettivi specifici, i target intermedi da conseguire entro la fine del 2024 per gli indicatori di output, i target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato. I target intermedi, i target finali permettono alla commissione agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. L'informazione sul conseguimento o anche sugli scostamenti dell'attuazione rispetto al target intermedi, i target finali ovviamente viene garantito dalla attività di monitoraggio. Il quadro sulla performance del programma diventa fondamentale anche in sede di attribuzione dell'importo di flessibilità. Ecco, in particolare, questa è una novità del 2021-2027, le dotazioni finanziarie dei programmi per il 2026 e il 2027 sono suddivise in due parti uguali 26, 50 e 50, 27, 50 e 50. Un 50% delle dotazioni per il 2026 e per il 2027 è appunto questo importo di flessibilità. L'importo di flessibilità viene assegnato dalla commissione europea con una decisione ad hoc che è basata sull'esame della performance del programma. E infatti l'articolo 18 ci dice nel corso del 2025 c'è un esame intermedio che è finalizzato all'attribuzione, alla conferma dell'importo di flessibilità. Tra gli elementi che danno sostanza a questo esame intermedio, vedete accanto a sfide delle raccomandazioni specifiche e progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale per energia e clima o del pilastro europeo dei diritti sociali, l'aspetto particolarmente rivelante dell'FS Plus, ecco tra questi elementi ci sono i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi tenendo conto delle difficoltà di scontrata nell'attuazione del programma e quindi ancora una volta ruolo strategico del processo di monitoraggio. Ecco un altro accenno, devo farlo necessariamente alla valutazione. La valutazione, come sapete molto bene, è un'attività distinta da quella di monitoraggio, del tutto distinta da quella di monitoraggio, entrambe dando corpo all'attività di sorveglianza, ma le valutazioni sono analisi indipendenti, condotte da esperti indipendenti, su efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione Europea per quanto riguarda in particolare ciascun programma. Tra l'altro nell'ambito della valutazione, come abbiamo detto, ricade anche un'attività di valutazione dell'impatto. Le valutazioni sono condotte in base ad un piano di valutazione, ecco perché mi accenno qui. Perché l'attività di valutazione è completamente distinta da quella di monitoraggio, ma le due attività ovviamente sono collegate. Perché qual è l'attività che mette dati a disposizione della valutazione? È l'attività di monitoraggio che permette al valutatore di esprimersi proprio guardando i dati quantitativi sull'esecuzione finanziaria, sull'esecuzione fisica, sull'esecuzione procedurale degli interventi. Con questo abbiamo concluso il nostro terzo modulo. Abbiamo cercato di chiarire quindi a chi e quando servono i dati del monitoraggio. Nel incontro conclusivo di questo modulo daremo uno sguardo ai sistemi informativi che vengono alimentati da questo flusso di rilevazioni che appunto sono compiute nell'ambito del lavoro di monitoraggio.